Continuano a migliorare i numeri dei contagi. Nel comune di Torre del Greco, infatti, sono 11 le persone registrate che hanno sconfitto il Covid-19, cifra maggiore rispetto ai nuovi positivi del giorno, che sono invece 8. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 100 attualmente positivi, di cui 10 ospedalizzati. Intanto è pronto, secondo quanto si apprende, il parere della Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana, che dà il via libera alla terza dose per la vaccinazione anti-Covid. Priorità sarà data, in una prima fase, ai soggetti immunodepressi. Per quanto riguarda la colorazione delle regioni, l'Italia non cambia per un'altra settimana. La Sicilia resta in zona gialla e le altre regioni in zona bianca, tra cui la Campania.